Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ART, siamo di nuovo su SebastianLeb e Rallyevo Stiamo per concludere il campionato della 2WD Pro e iniziamo con un'eliminazione Quindi sempre Rallye Cross Andiamo subito a vedere cosa è la eliminazione quindi, eliminazione sia, eliminiamo tutti gli avversari Non fisicamente ovviamente 3, 2, 1, vai Oh, andò vai E dai, mi toccano, mortacci loro 3, 2, 1, vai Stai dietro Boom, palo Eh sì Direi che è ora di usare il flashback For you, no? Un po' di freno a mano ci sta qui Boom Cazzo Perrorino Ne mancano due Dai, dai, dai Ci serve come il pane questa frenata buona e l'abbiamo fatta bene infatti Ancora toccatina col posteriore Mancano 15 secondi Ahia, un po' di wallride Attenzione, fatto Anche questo è andato Ma quanti crediti abbiamo Siamo proprio forti Ok, l'ultimo evento Sta per iniziare No, 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 no Scusate, che cacchio sta di Oh, no, no C'è il penultimo evento Non l'ultimo, pardon Che un rally Dovrebbe essere Vediamo un po' Bella posizione Scaliamo qualcuna Forza Ok E' un po' fastidio però Che ti butta fuori ogni volta Che devi fare un'altra cosa Ah, Alsazia 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 Ci sono due prove qui in Alsazia Quindi cerchiamo di non far danni Nessuna delle due Scusate, ma i pedali dove stanno andando? Ok Ah, a posto Attenzione Attenzione Destra 6 più 40, in destra 2 lunga per sinistra 5, 70. Eh che cacchio però, non gira. Arrivata a un certo punto la macchina non gira, l'avevamo presa pure bene sta curva. Sinistra 5 più 50. Sinistra 6 più 50, sinistra 6, 50. Destra 5 su dosso per sinistra 5, 90. Destra 5 molto lunga in sinistra 6 più 40. Destra 6 meno 50, destra 5 lunga, chiude, 60. Sinistra 4 su dosso per sinistra 6 più 40. Chiude, chiude cazzo, chiude. Un attimo. Sinistra 4 su dosso, apre lunga, 210. Sinistra 6, 70. Sinistra 2 meno, per ventra 3 su dosso, 70. Stai a sinistra. In sinistra 6 più su dosso, per destra 6 lunga, 50. Abbiamo fatto qualche danno. Attenzione, sinistra 4 chiude, intornante sinistro. Per destra 5 meno, 40. Sinistra 6, destra 5 più, per destra 6, 50. Destra 5 lunga, 260. Destra 6 apre, 40. Sinistra 6, per destra 5, in destra 2, 70. Attenzione, destra 6, in sinistra 3, in destra 6. Eh dai però, sto fatto che non gira appena comincerà a accelerare. Attenzione, destra 6, in sinistra 3, in destra 6, in sinistra 3 meno, lunga. Destra 5 più, lunga, 60. Destra 5 su dosso, per sinistra 6 più, 60. Destra 3 apre, ma... Mamma mia che rischio. Destra 6, 190. Dosso per sinistra 5, lunga, chiude all'incrocio. Per destra 6, meno, 50. Macchine. Palo. Preso di tutto. Si parcheggia lì all'esterno della curva. Eh, cazzo. Di nuovo. Mi rianimi? Ok. Allora, fino a qua andava bene, diciamo. E da qui in poi. Ok. Destra 4 apre, 50. Attenzione, destra 6, in dosso salta, 40. Sinistra 5, per destra 4 più, apre, 50. Sinistra 5, 30. In sinistra 6, per destra 6 meno. Sinistra 5 lunga, apre, 40. Per destra 6 più, 70. Sinistra 4 più, per destra 2, 90. Sinistra 3 lunga, chiude, per destra 3 meno, 100. Va bene, siamo in vantaggio. Attenzione, destra 6 più, frena in sinistra 2, 100. Sinistra 3 meno, mannaggia. Dovevo mettere la seconda. Momento, che è successo? Non è successo niente. Allora. Un po' un puttanaio sta... Destra 4 lunga, chiude, in sinistra 4 lunga, per 40. Ok, giriamo. Sinistra 4, per destra 4, apre, 40. Sinistra 6 più, 80. Che è successo? Ecco. Sinistra 4, per destra 4, apre, 5 lunga, 40. Sinistra 6 più, 150. Destra 6 più, chiude, 50. Destra 6, 50. Attenzione, sinistra 5 su, dorso, salta lunga, 50. Destra 6, 50. Eh, l'ha detto pure. Attenzione. Troppa sportiveggianza, qui. Destra 6, 50. Sinistra 6, per destra 6 più, lunga, chiude 3, recinzione, 80. Destra 4, 40. Occhio, recinzione. Non significa che la dobbiamo prendere. Destra 6, 70. Destra 6 più. Sinistra 6 più, molto lunga, 50. Frena. In sinistra 2, 50. Qui avremmo già grippato il motore, nella realtà. Destra 3 più, 40. Abbiamo quasi finito, dai. Destra 3 più, 40. Palo. Destra 6 più, per sinistra 4. In destra 5, meno, per sinistra 5, apre. Non è successo niente. Facciamo come se non è successo niente. La destra 3 l'ho lasciata per strada, ok. Destra 6 più, per sinistra 4. In destra 5, meno, per sinistra 5, apre. Destra 5, lunga, 40. Momento. Eh, che cazzo, però. Eh. Destra 5, lunga, 40. Destra 4, 30. Sinistra 6, lunga, 90. Siamo arrivati. Quasi. Quasi. Sinistra 6, lunga, sudosso. Sinistra 6, in destra 5, meno, apre. Sinistra 6, lunga, 60. Sinistra 4, traguardo. Momento, panico. No, 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 abbiamo ucciso qualcuno, no, no. Non abbiamo più flashback. Va bene così. Ci ha fatto arrivare i primi? Sì. Mamma mia che fatica questa prova. Seconda prova speciale. 3, 2, 1, vai. 40, sinistra 6, per destra 6, lunga, chiude. Attenzione, sinistra 6 più, frena, intornante sinistro. Destra 5, meno, 90. No, 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 un attimo. Che è successo? Non ha frenato. Cioè, o meglio, ha frenato ma ha inchiodato. Destra 5, meno, 90. No, è niente, ragazzi. Tornanti. Non li sappiamo fare. 3, 2, 1, vai. Ma almeno il vetro lo potevano riparare. 40, sinistra 6, per destra 6, lunga, chiude. Attenzione, sinistra 6 più, frena, intornante sinistro. Destra 5, meno, 90. Sinistra 6, per destra 4, lunga, chiude. 100. Sinistra 6, 50. Attenzione, destra 6 più, per sinistra 6, chiude. 40. Destra 6, 40, per destra 5, 80. Scusami, questa sarebbe una sinistra 6? Questa è una sinistra 6, ragazzi. Questa almeno è una sinistra 3. 40, per destra 5, 80. Destra 6, lunga, 90. Vi devo fidare? Sinistra 5, per destra 6, in sinistra 3, 40. Destra 6, per sinistra 4, più, 60. Destra 5, apre, 50. Destra 6, più, per sinistra 6, più, per destra 6, più, 70. Tratto veloce adesso. Attenzione, sinistra 6, intornante destro. In sinistra 6, 40. Destra 6, più, per sinistra 6, più, 160. Eh, si siamo fermati praticamente. Destra 6, più, lunga, 40. Sinistra 4, 170. Sinistra 3, 40. Destra 4, per sinistra 3, non tagliare. Per destra 6, più, 70. No, no, non taglio. Sinistra 6, più, 70. Sinistra 4, per destra 6, più, lunga. Sinistra 6, in destra 6, più, 90. Sinistra 6, più, per destra 6, 130. Addirittura siamo in ritardo. Sinistra 4, più, apre, 40. Sinistra 6, lunga, 130. Destra 6, per sinistra 6, molto lunga, chiude, 50. Destra 2, per sinistra 6, più, 70. Chi... Cioè, ragazzi, questa è una sinistra 6, chiude. Questa è una sinistra 6, chiude. Destra 2, per sinistra 6, più, 70. Alcune note non sono fatte benissimo, dobbiamo dire. Destra 6, più, per sinistra 6, più, molto lunga. Destra 6, più. Sinistra 5, in destra 3, più, apre. Sinistra 6, più, 40. Destra 6, meno, 40. Sinistra 6, più, in destra 5, lunga, 70. Sinistra 4, apre, 70. Attenzione, sinistra 2, meno, 50. Destra 6, più, sudosso, 70. Sinistra 6, meno, 50. Abbiamo quasi finito, dai, due intermedi, ancora. Ancori, ancora. Ok, che questa chiude. Eh, però questa chiude tranquilla. Attenzione, destra 2, in sinistra 3, lunga, apre, 80. Destra 6, lunga, per sinistra 6, 40. Destra 4, più, 60. Sinistra 6, per destra 3, per sinistra 4, apre. Destra 6, più, per sinistra 6, più, lunga, 120. A cannone, vai, vai. Destra 6, 80. Destra 6, più, per sinistra 6, più, 170. Due secondi, dai. Sinistra 5, più, 160. Destra 5, più, 50. Sinistra 5, più, apre, 80. Sinistra 5, meno, 70. Destra 6, più, 80. Destra 6, più, lunga, 130. Attenzione, tornante dentro. Sinistra 5, più, 100. Destra 6, più, freno, intornante, sinistro, 100. Destra 6, più, molto lunga, chiude, per sinistra 5, più, 40. Fine. Fine. Researche. Adio. Ausan. Non. 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 Vai! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 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 via!